Gli effetti che la pandemia sta avendo sul mondo della formazione saranno chiari solo nei prossimi anni. Nel frattempo Young, annuale iniziativa sull'orientamento promossa dalla Camera di Commercio Lariana, ha fotografato le dinamiche del rapporto tra istruzione e lavoro nel nostro territorio nel periodo immediatamente precedente all'irrompere del Covid. Ne emerge una situazione complessivamente positiva, pur con qualche differenza di rilievo tra le province di Lecco e Como. Il tasso di disoccupazione giovanile si attesta su valori medio-bassi, ampiamente al di sotto della media nazionale e in ulteriore abbassamento negli ultimi anni. Permane una situazione migliore in provincia di Lecco, 5%, rispetto all'area comasca 6,3%. Anche per quanto riguarda l'istruzione, i dati sono positivi. Aumentano sia i diplomati, il 73% del totale degli studenti, che i laureati. Diplomati sono in crescita per tutte le tipologie di scuola, ma soprattutto per gli istituti professionali e per quelli tecnici. Appaiono invece in diminuzione i qualificati, cioè coloro che scelgono corsi triennali o quadriennali. Aumentano gli avviamenti al lavoro tra i 15 e i 24 anni, con addirittura un più 40% tra il 2014 e il 2019. Calano però i giovani imprenditori. Tra i laureati presentano una crescita più significativa quelli residenti in provincia di Lecco, più 8%, tra il 2013 e il 2018. Il numero di iscritti all'università residenti nel territorio lariano è consistente. Circa 8190 ai lecchesi. Il 15% si iscrive a Ingegneria, seguita dal gruppo economico-statistico, 14%. Dirievo il trend dell'indirizzo politico-sociale, con il 4% di iscritti in più rispetto all'anno precedente. Nell'ultimo triennio, il Politecnico di Milano, nella sua sede lecchese, fa registrare un numero sostanzialmente costante sia di matricolazioni che di iscritti. In media si tratta di circa 1.630 unità, di cui il 10-12% residenti in provincia di Lecco. Gli studenti lecchesi, che hanno conseguito una laurea triennale nel 2018, superano le 1.100 unità, ovvero l'11,5% in più rispetto alla 2017.